Inizia un tour cittadino del Giulio Cesare di Shakespeare, William Zola, girerete vari quartieri della città di Pescara per proporre quest'opera teatrale? Sì, sono quattro quartieri, San Donato, Colli Madonna, San Silvestro Spiace, chiuderemo a Zanni e il Giulio Cesare che fa parte della nostra storia, del nostro DNA culturale e sociopolitico. È un nuovo progetto grazie all'assessorata all'associazionismo sociale, alla LAD, all'assessorata della cultura del Comune di Pescara, quindi inizieremo domani sera a San Silvestro Spiace, poi proseguiremo ai Colli e così via con le altre date. È un progetto pilota che vogliamo testare, vogliamo vedere, insomma il teatro che va incontro alla gente. Se, come credo, la cosa funzionerà perché i segnali sono molto positivi, si potrà anche ripetere, anche con il teatore o con altri progetti, e credo che per Pescara sia anche un invertimento di rotta, un invertimento di una rotta che tutto sommato, insomma tutto verso il centro, invece diciamo dal centro verso le cosiddette, fra virgolette, molte virgolette, periferie. La cultura che viene tagliata a sua volta con i fondi, eccetera, si rimbocca le maniche e va verso le cosiddette periferie, che poi appunto ho detto molto virgolettato perché io so per esperienza personale, fatta a Roma e in altre parti d'Italia, che in platea si possono, ospitiamo di solito persone che non hanno nulla da invidiare, ovviamente socialmente parlando, con quelli che abitano ai Parioli o a Piazza Salotto, quindi è un discorso socialmente molto bello, a mio giudizio, ma soprattutto insomma il teatro è vivo e combatte insieme a noi.